Allora, giovani amici di Facebook, come vedete durante i Lugacomics and Games ho accumulato una valanga di roba da spacchettare o da leggere adesso lascio tutto sul tavolo perché mi scocciavo a togliere tutto prima di fare questo incaut unboxing e mini review e non so bene quale prendere delle tante cose che vorrei farvi vedere ma ho appena deciso che prenderò questi due oggetti che sono un po' comuni tra loro, nel senso che entrambi sono di utilità on the go anche se volete uno è questa fantomatica Omega Key che poi è il clone di altre portachiavi simili ce ne sono di 3 o 4 marche diverse, alla fine sono tutte molto simili questa è quella che ho trovato su Amazon che aveva il miglior qualità prezzo e anche come accessori ve la faccio vedere tra un attimo e l'altra invece è la Swisscard, questa è Super Famous, devo ancora spacchettarla questa in realtà l'ho già spacchettata perché volevo farvela vedere intera, montata costano entrambi una ventina di euro, attorno ai 20 euro sono due oggetti appunto che possono rivelarci molto comodi sia in mobilità che anche a casa questa in particolar modo mentre siete in giro per custodire le vostre chiavi in una maniera più semplice e comoda e questa per avere sempre con voi una piccola card che ha al suo interno svariati accessori comincio però con l'Omega Key come dicevo è una delle tante in realtà, ne ho viste su internet di svariate e diciamo che condividono tutte lo stesso design dentro la scatola vi arriveranno i vari pezzi, in questo momento non c'è nulla perché l'ho già montata, comunque vi arriverà il pezzo superiore, il pezzo inferiore un moschettone e un piccolo strap ve la faccio vedere nella sua bellezza una volta montata prima avevo due diversi mazzi di chiavi, uno per casa, uno per l'ufficio e ora automaticamente, come per magia, tutte le mie chiavi sono in un unico posto non pensavo fosse così tanto comodo, al contrario di altre chiavi oltre come dicevo è disponibile in vari colori, c'è anche nera, a me piaceva rossa, l'ho presa rossa praticamente vi danno questo pezzo superiore, questo pezzo inferiore i due passanti con le viti, questo diciamo pezzo in stoffa figoso con il logo Mega Key e anche il moschettone in metallo che poi potrete attaccare al vostro magari altro portachiavi io per esempio l'attacco poi le chiavi della macchina così in una volta sola ho chiavi dell'auto, tutte le chiavi dell'ufficio e tutte le chiavi di casa in una volta sola può contenere diversi tipi di chiave, ho scoperto poi che il buco presente in ogni chiave è praticamente standard per cui si infiono tutte senza problemi l'unico problema che ho avuto è in una maledetta chiavetta USB Lassie che ha il buco leggermente più piccolo, non so se avete presente quelle chiavette a forma di chiavetta USB ero convinto e super contento di inserire anche quella qui dentro per avere anche una chiavetta USB sempre dietro invece niente perché il buco è veramente di mezzo millimetro più piccolo quindi Shimon Lassie per aver fatto il buco non standard ma più piccolo come si utilizza? il montaggio è super semplice, monti passanti, fine della storia ci stanno fino a 5-6 chiavi per lato in questo momento ce ne sono solamente 5 a parte qui a sinistra e ce ne sono 4 perché una è più grossa delle altre ed è forse rimasto un pochino troppo lasco vedete che si muovono forse un po' troppo facilmente infatti sto pensando di raggiungere una chiave per ogni lato per poter quindi stringere di più le viti quando vi serve una chiave semplicemente la tirate fuori una qualunque, scegliete voglio entrare in casa e poi la utilizzate semplicemente in questa maniera diventa anche più comodo, diventano anche quasi più comode le chiave perché questa diventa una prolunga e si riesce anche a stringere con le mani la chiave non va assolutamente da nessuna parte la girate dentro la serratura e poi la richiudete con comodità i due pezzi sono in metallo ricoperti in teflon se non ricordo male, comunque in un materiale che poi non graffia quindi se lo tenete in tasca per esempio le chiave rimangono all'interno e non vanno a graffiare se le metto bene magari non vanno a graffiare le altre cose che avete in tasca vedete rimangono tutte quante dentro ecco, ce l'ho fatta tutte dentro e come dicevo rispetto ai competitor c'è anche questo moschettone e piccola strip in più quindi male non fa vengono vendute come anche i competitor i vari cloni non so sinceramente chi è stato il primo ad avere questa idea credo un'altra marca su Kickstarter ma insomma chi se ne frega questa costa attorno ai 20 euro su Amazon il link lo trovate qui sotto secondo me è una figata oltre all'Omega Key vi mostro oggi anche come vi dicevo prima questa è la sua scatola vi mostro anche oggi faccio l'unboxing questa volta però di questa Swisscar Classic che è proprio il prodotto classico di Victorinox che per intenderci è la stessa produttrice medica del mio coltello preferito da unboxing che ora vado ad aprire perché appunto facciamo un unboxing con un Victorinox di un altro prodotto Victorinox se serve vediamo subito quindi vado ad aprire qui sul retro viene mostrato un po' tutto il contenuto per cui insomma un coltello un paio di forbici eccetera adesso ve lo mostro subito in realtà l'unboxing si fa facile perché mi sembra che non ci sia da rompere nulla vediamo forse sì invece sto per spaccarlo in malo modo basta tirarla fuori era molto semplice l'unboxing quindi ecco qua non so che altro c'è nella scatola credo nulla comunque probabilmente istruzioni inutili ma neanche e dentro ecco qua la Swisscar anche questa è disponibile in vari colori mi pigliava bene rosso quindi l'ho presa rossa è tranquillamente inseribile dentro il proprio portafoglio è fatto apposta lo spessore così a occhio saranno 3 o 4 mm non è esattamente la cosa più sottile del mondo intendiamoci vediamo se trovo le caratteristiche tecniche ovviamente non le hanno scritte sulla scatola ma così a occhio mi sembrano 4 mm più o meno e ci sono vari accessori c'è un comodo coltellino con una punta e sicuramente sarà super affilato come tutti Victorinox c'è la cosa che mi piace di più un paio di forbici riesce a starci qua dentro tra l'altro geniale hanno messo unicamente l'anella su un lato solo in modo tale che sia utilizzabile senza insomma dover raggiungere due anelle vedete super taglienti chiaramente non ho carta qui ma sono certo che da buona tradizione di Victorinox saranno super taglienti sul lato opposto abbiamo invece una limetta per le unghie barra cacciavite barra quello che vi pare in realtà vedete come è se riesco a mettere a fuoco più vicino ok e poi abbiamo metto via questa abbiamo un paio di pinzette anche queste potenzialmente super comode abbiamo poi uno stussicadenti se non ricordo male e se riesco a tirarlo fuori ecco qua uno stussicadenti incredibilmente comodo anche questo per i vostri bei dentoni e poi abbiamo una diciamo una punta anche questa per fare cose in giro fare cose e vedere gente con la vostra punta il tutto sta come vi dicevo dentro a un formato tessera classico cos'è 8x5 se non ricordo male 8 e mezzo per 5 e mezzo molto carino esteticamente molto comodo da portarsi in giro lo potete infilare dentro lo zaino dentro la borsa o addirittura anche dentro portafoglio ripeto lo spessore non è sottilissimo lo vedete ma è comunque sarà un 3 o 4 mm quindi sta senza problemi dentro portafogli per avere sempre con voi un bel coltello insomma un coltello utilizzabile un paio di forbici e tutti gli altri accessori che vi ho appena mostrato chiaramente il buon sempre il buon vecchio Victorinox base è migliore ma occupa molto più spazio e quindi questi sono i due oggetti super comodi che vi ho mostrato oggi entrambi costano 20 euro di entrambi trovate il link qui sotto nella descrizione del video o qui a destra se lo state guardando non è beddato e se vi sono piaciuti questi due oggetti e li state per andare a comprare seguite il link fate like fate share e ci vediamo al prossimo video di Incaut Unboxing ciao ragazzi